leggerò due testi poi un altro versetto molto conosciuto nell'epistola di paolo agli efesini gloria al signore ci siete sì incoraggiatemi fratelli è vero che queste strutture un po creano un po di distanza un po di diciamo reverbero della voce ma sentiamo la presenza del signore gloria a dio allora leggiamo romani capitolo 13 il verso 11 e il verso 12 signora ha messo un tema nel mio cuore che vorrei condividere con voi dice così la parola e questo dobbiamo fare consci del momento cruciale e ora ormai che vi svegliate dal sonno perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo la notte avanzata il giorno è vicino gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce l'altro versetto potete anche soltanto ascoltare se non volete sfogliare ancora la bibbia efesini 5 14 molto conosciuto poiché tutto ciò che è manifesto e luce per questo è detto risvegliati o tu che dormi e risorgi dai morti e cristo ti inonderà di luce il tema che il signore ha messo nel mio cuore da diversi giorni pensando a questo raduno e questo invito al risveglio al svegliarsi dice qui la parola questo dobbiamo fare coscienti del momento cruciale nel quale noi ci troviamo la salvezza ci è più vicina di quando credemmo e desidero fratelli dire a me stesso ai giovani alla chiesa del signore è ora che noi ci svegliamo dal sonno probabilmente non stiamo dormendo forse profondamente ma c'è questa specie di sopore questa specie di sonnolenza nella mia vita nella vita dei giovani nella vita di tanti credenti delle nostre comunità e questi versi suonano come una sveglia è ora che ci svegliamo credo che tutti noi in qualche modo abbiamo un rapporto un po di odio verso la sveglia e quando la sveglia trilla il mattino stendiamo la mano e la spegniamo forse abbiamo programmato che squilli un'altra volta stendiamo la mano e la spegniamo ma voglio invitarvi quest'oggi a non spegnere questa sveglia il signore dice è ora che ci svegliamo e ora che ci alziamo ci svegliamo ci alziamo e cominciamo a operare maggiormente effettivamente nell'opera del signore la parola di dio dice nella parabola delle dieci vergini e come sapete rappresenta questa parabola la chiesa militante nella quale poi alcune cinque di queste vergini fanno parte della chiesa trionfante ma altre cinque rimangono sulla terra al ritorno del signore che tutte divennero assonnate e si addormentarono questo verso quindi ci fa capire che anche per i credenti che incontreranno il signore c'è questo tempo di assopimento tutte divennero assonnate e si addormentarono e desidero questa mattina con un escursus diciamo veloce di alcuni pochi punti andare a vedere soprattutto dove potremmo addormentarci o dove ci siamo addormentati e lì la voce del signore arriva arriva per dire è ora che tu ti svegli da questo sonno sono delle ipotesi chiaramente ma ognuno di noi deve credo oggi esaminare se stesso per capire se si trova in quella condizione che andiamo ad esaminare forse ci stiamo assopendo prima di tutto sotto la ginestra dell'autocommiserazione e faccio riferimento a un personaggio conosciuto della parola del signore a elia la scrittura dice nel primo libro dei re che elia espresse il desiderio di morire dicendo io non valgo più dei miei padri è meglio morire che vivere e la scrittura dice che elia si addormentò sotto la ginestra ora non so se c'è qualcuno stamattina che si è sdraiato sotto la ginestra dell'autocommiserazione sono debole sono incapace non riesco a fronteggiare questa tentazione non valgo più degli altri signore io non posso farci nulla ma questa mattina il signore ci chiama a reagire alla condizione dell'autocommiserazione credo che l'autocommiserazione non sia assolutamente per il credente michea dirà reagendo non ti rallegrare per me o mia nemica se sono caduta mi rialzerò se sto seduta nelle tenebre il signore è la mia luce questa mattina vogliamo svegliarci dall'autocommiserazione e vogliamo dire signore io spero in te sì è possibile forse che sono caduto sì è possibile forse che ho fallito ma non voglio rimanere nel fallimento mi voglio alzare e voglio tornare a servirti con più zelo con più lena rispetto a prima elia viene svegliato dall'angelo viene svegliato e viene nutrito e gloria a dio per quanto nutrimento abbiamo nei nostri culti o anche nella meditazione nella lettura personale della parola di dio ma dio non ci nutre per tornare a dormire infatti la parola del signore dice che quando elia vide la focaccia e vide la brocca d'acqua mangiò e beve poi si sdraiò di nuovo sotto quella ginestra e tornò a dormire ma l'angelo lo sveglia di nuovo dio non ci nutre per dormire dio ci nutre per agire dio ci nutre per camminare dio ci nutre per rifare eventualmente quello che successe dopo la strada del deserto e andare a compiere l'opera che dio ci ha affidato perché dio ha affidato a me a te un compito una missione un'opera e quando dio ci benedice ci nutre e quando dio ci benedice anche nel campeggio lo fa perché noi non dobbiamo tornare a dormire ma dobbiamo essere svegli e ora ormai che vi svegliate dal sonno vai rifai la strada del deserto quando elia giunse lì nella spelonca questo disse il signore a lui fino a damasco e quando vi sarai giunto ungerai alza e il comere di siria ungerai ieu e poi ungerai eliseo al tuo posto caro elia nonostante le avversità le difficoltà e ora che ti svegli ti alzi da quella ginestra da sotto quella ginestra e continui a servirmi forse qualcuno questa mattina si trova ad assopirsi o addormentarsi nella stiva della propria volontà il mio riferimento è a giona giona dice la scrittura che aveva ricevuto un mandato da parte del signore di andare come sapete a predicare il messaggio alla città di ninive ma giona fugge dalle sue responsabilità e siamo in un tempo in cui forse i giovani soprattutto non vogliamo assumerci tante responsabilità i coniugi fuggono dalle loro responsabilità i genitori fuggono dalle responsabilità i credenti in generale a volte anche noi come servi di dio vorremmo ovviare alle responsabilità e giona fuggendo dal piano di dio si imbarca e la scrittura dice che scese nella stiva di quella nave e si addormentò la bibbia dice che tutti stavano invocando il signore perché dio voleva svegliare giona e scosse quella nave attraverso la tempesta che egli mandò io non so se dio sta scuotendo la tua vita attraverso qualche tempesta ma sappi che l'obiettivo di dio è svegliarti e ora che ci svegliamo dal sonno signori io non voglio più dormire ma non voglio neanche più avere questo senso di storni stordimento e di sonnolenza signore risveglia la mia vita con la potenza dello spirito santo e la bibbia dice che i marinai ebbero paura per la tempesta che era occorsa e ciascuno invocava il proprio dio e gettavano amare il carico della nave per alleggerire la nave giona invece notate era sceso in fondo alla nave si era coricato e dormiva profondamente dio lo vuole svegliare e siccome con la tempesta non si svegli addirittura il capitano della nave scese nella stiva di quella nave leggo testualmente il capitano gli si avvicinò e disse che fai qui dormi alzati invoca il tuo dio forse egli si darà pensiero di noi e non periremo ci sono tante persone che intorno a noi dicono ma che state facendo dormite ci sono i nostri vicini di casa che forse ci vedono assopiti e ci vorrebbero svegliare perché essi hanno bisogno che noi invochiamo il nostro dio perché il nostro dio è colui che può calmare la tempesta cari fratelli forse il mondo intorno sta gridando alla chiesa chiesa del signore svegliati perché noi il mondo abbiamo bisogno della chiesa questo mondo ha bisogno del messaggio dell'evangelo coloro che stanno andando all'inferno hanno bisogno di qualcuno che gli parli della via che porta verso il cielo ci stiamo assopendo probabilmente i nostri figli stanno andando all'inferno ma noi diciamo ma sono bravi ragazzi i giovani si fidanzano con persone non convertite e noi diciamo sì questo ragazzo non è convertito ma è forse meglio di colui che è convertito fratelli vogliamo pregare che il signore ci aiuti è ora ormai che vi svegliate dal sonno forse ci stiamo assopendo e addormentando sulle ginocchia della sensualità il mio riferimento ad un altro personaggio della bibbia conosciutissimo chiamato sansone veniva sedotto dalle lusinghe del peccato e molti oggi flirtano con il peccato la scrittura dice che ogni giorno la pressione di dalila era su sansone fino al punto che riuscì ad addormentarlo sulle sue ginocchia cari giovani cari fratelli questo spirito di stordimento è dovuto al fatto che noi stiamo giocando con il peccato questo spirito di stordimento tra la gioventù questa questo sopore spirituale questa superficialità a volte lo dico a me stesso non sono qui per giudicare nessuno è dovuto al fatto che noi non diamo un taglio netto con la vita immorale e peccaminosa fuggi dirà paolo a timoteo le passioni giovanili e ricerca la giustizia la fede l'amore la pace con quelli che invocano il signore con tutto il cuore sì questo sopimento spirituale ci fa perdere la sensibilità alle cose di dio la mente è catturata da pensieri da immagini che richiamano l'immoralità forse il fatto che la nostra mente è stata pervasa da immagini immorali queste immagini vengono ad occupare la nostra mente anche mentre offriamo il culto al signore signore ti preghiamo stamattina svegliaci non vogliamo dormire sulle ginocchia sensuali non vogliamo ma desideriamo ascoltare il richiamo del signore è vero anche sansone si svegliò ma si svegliò troppo tardi è scritto in 16 20 dei giudici egli svegliatosi dal sonno disse io ne uscirò come le altre volte e mi libererò ma non sapeva che il signore si era ritirato da lui signore ti preghiamo sveglia la tua chiesa prima che sia troppo tardi signore ti preghiamo prima che possiamo perdere la tua presenza noi non vogliamo perdere la presenza di dio l'unzione di dio deve essere nella nostra vita abbiamo non solo necessità ma abbiamo urgenza e indispensabilità dell'unzione di dio nella nostra vita ne ho bisogno come predicatore ne abbiamo bisogno come credenti noi vogliamo l'unzione di dio noi vogliamo essere svegli perché il mondo ripeto ha bisogno di noi forse ci stiamo addormentando assopendo nel giardino il mio riferimento è ai discepoli nel vangelo di matteo ma anche negli altri vangeli in quella ardua battaglia che gesù stava combattendo negli ultimi istanti della sua vita terrena quando l'inferno intero si era scatenato contro gesù e i discepoli del signore ma i discepoli del signore sembravano non capire del momento cruciale torno al testo che essi stavano vivendo negligenza e probabilmente chiedo scusa a tutti io e forse anche voi ma prima io forse non riusciamo a capire il momento cruciale che noi stiamo vivendo un momento storico particolare è solo convinto che è un momento strategico quello che noi stiamo vivendo ma prendiamo sotto gamba questo forse non ci rendiamo conto che mai come in questo periodo le forze del male stanno attaccando la gioventù e la chiesa in generale non voglio essere portatore di cattive notizie e non sono qui per fare un quadro come dire oscuro nebuloso della condizione della chiesa in generale ma sono qui con voi per cercare la faccia del signore cari fratelli e care sorelle non è il momento di dormire Gesù stava combattendo quest'ardua battaglia contro il nemico contro il male se è possibile padre fa che questo calice passi oltre da me lo sapete la sua preghiera era intensa fino al punto che lo sapete il sudore divenne come gocce di sangue grumi di sangue per la tensione i capillari della sua testa erano esplosi scoppiati questo avviene quando c'è una forte tensione d'emozione e i discepoli dormivano si fidavano delle loro capacità tentavano di tenere gli occhi aperti ma gli occhi loro erano aggravati e non riuscivano a tenere gli occhi aperti vogliamo pregare stamattina signore facci tornare a te e noi ritorneremo ridonaci dei giorni come quelli di un tempo e vogliamo pregare signore noi da soli non ce la facciamo a tenere gli occhi aperti siamo storditi signore anche queste crisi che ci sono nel mondo anche questa crisi economica ci ha storditi forse non ce l'aspettavamo il mondo è scosso ma noi abbiamo un regno che non può essere scosso il mondo è confuso e qualche volta anche i credenti rimangono un po' confusi per quello che sta succedendo siamo appesantiti signore e ti preghiamo tienici desti svegliaci tu con la potenza dello spirito tuo santo e Gesù venne ai discepoli e disse che fate dormite Pietro agli altri non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola e tornò a pregare poi ritornò ed essi dormivano ancora risvegliati risvegliati rivestiti della tua forza Sion gloria a Dio abbiamo forza nel nome del Signore noi possiamo svegliarci mettiti le tue più splendide veste Gerusalemme scuotiti di dosso la polvere alzati mettiti seduta Gerusalemme sciogliti le catene dal collo figlia di Sion che sei schiavitù questa mattina ti imploro svegliati svegliamoci fratelli mi avvia la conclusione forse ci stiamo assopendo o addormentando sulla finestra della superficialità il mio riferimento l'avete già capito e è autico questo giovane come dice nel libro degli atti capitolo 20 mentre in quella sala di sopra illuminata e calda Paolo predicava attirava a lungo il suo discorso c'era un giovane seduto sul davanzale della finestra e la scrittura dice che a un certo punto fu colto da un profondo sonno io non credo che subito cadda in un profondo sonno ma credo che Eutico cominciò ad avere qualche momento di cedimento la sua testa andava per conto suo ciò che mi impressiona di più di questo testo è che probabilmente nessuno lo tirò giù dalla finestra e ciò che mi impressiona è che mentre qualcuno sta dormendo nessuno di noi lo sveglia iniziò con una condizione di sopore di sonnolenza dettata dall'apatia e dal desinteresse alle cose di Dio Eutico rappresenta coloro che vivono ai margini della Chiesa non solo in senso fisico ma di coloro che vivono ai margini con un'esperienza superficiale delle cose di Dio caro giovane stamattina afferra il Signore con tutto il cuore non puoi continuare a stare sulla finestra la finestra della superficialità di una vita cristiana mediocre la finestra dove una occhiata è all'esterno per vedere cosa avviene nel mondo è un'occhiata all'interno ma forse anche infastidito da questa predicazione come la mia forse che si sta protraendo un po' troppo e la Bibbia dice che dopo essere stato colto da un profondo sonno sopraffatto dal sonno c'è da piangere fratelli sopraffatto dal sonno precipitò il sonno lo vinse ma gloria a Dio perché anche in questo caso Paolo scese si gettò su di lui lo abbracciò e disse non vi turbate perché è ancora vivo e se qualcuno è precipitato tu sei qui ma sei già precipitato hai preso già un bel tonfo sei stato per anni ai campeggi ma al campeggio ti sedevi sulla finestra mai interamente coinvolto come Michal stava a guardare dalla finestra il coinvolgimento di Davide nell'adorazione a Dio questo sonno è diventato profondo ti ha vinto e sei precipitato ma stamattina se possiamo avere qualche minuto io ti voglio abbracciare e insieme vogliamo pregare perché ci stanno a cuore i giovani e anche i meno giovani e ora ormai che vi svegliate dal sonno io non lo so dove tu ti sei adagiato e ti sei assopito cosa è successo nella tua vita io credo però che noi non vogliamo rimanere così una vita così non va bene un cristianesimo così non va bene una chiesa così perdonatemi non va bene signore signore noi vogliamo vedere la tua gloria signore noi vogliamo un risveglio signore noi vogliamo essere svegliati non vogliamo stare più nascosti addormentati vogliamo uscire in questo mondo e portare il potente messaggio dell'Evangelo è un momento cruciale questo non ci sono forse dirò qualche cosa ancora oggi pomeriggio non ci sono più o se ci fosse tizio caio i fratelli gli apostoli eccetera non ci sono è il nostro tempo ci siamo noi ci vogliamo arrendere nelle mani del signore signore risvegliaci perché è tempo che la chiesa agisca perché è tempo che questo mondo sia messo sotto sopra dalla potenza dello spirito di dio che dio ci ha dato e che è nella chiesa del signore non siamo handicappati non è un tempo diverso nel senso che lo spirito che dio ha dato a noi ha la stessa potenza la stessa efficacia dello spirito che scese il giorno della pentecoste e riempì gli apostoli e i discepoli che misero sotto sopra il mondo per la potenza dello spirito santo preghiamo il signore insieme fratelli gloria al nome del signore gloria al nome del signore per favore fratelli alleluia io non so quello che succederà ma nel giro di qualche anno noi vedremo ulteriori sconvolgimenti a livello mondiale il tempo che stiamo vivendo è un tempo cruciale siamo nell'adempimento di profezie precise il mondo è pronto ad acclamare l'uomo del peccato l'anticristo che finalmente dicono dia sicurezza stabilità economica lavoro un po' di serenità questo aspetta il mondo e noi coscienti è vero non possiamo stabilire nulla dare date assolutamente no ma coscienti del momento cruciale che stiamo vivendo sì sì consapevole dei tempi dei segni della storia che stiamo vivendo sì coscienti di questa sfida immane che questa generazione ha è ora ormai cari giovani non spegnete la sveglia stamattina la sveglia sta suonando è ora che ti svegli è ora che prendi una decisione per Gesù è ora che fai sul serio con lui basta poltrire smettila di piangerti addosso esci fuori non stare sotto la ginestra dell'autocommiserazione smettila di fuggire la tua responsabilità dove vai vagando Dio ti chiama a una missione speciale svegliati invoca Dio smettila di giocare col peccato signore liberaci smettila di essere superficiale negligente tu dormi mentre in furia una battaglia così ardua mentre il diavolo ha scatenato il suo esercito tu che fai dormi ascolta se te ne vuoi andare caro giovane vattene pure vai dove ti porta il cuore ma se vuoi appartenere al popolo di Dio scendi dalla finestra vieni in mezzo al popolo del Signore non funziona un po' con Dio è un po' nel mondo non funziona giovani non funziona è ora che ci svegliamo dal sonno noi lo vogliamo e Dio deve operare nella nostra vita la voce di Dio è arrivata stamattina svegliati che fai lì riprendi il cammino c'è tanto da fare c'è tanto da fare pensare a questi paesi queste città nord est Italia Calabria ovunque è possibile città di centomila abitanti di cinquantamila abitanti non c'è la testimonianza perché dormiamo fratelli per favore noi stiamo dormendo mentre migliaia di persone ogni minuto se ne vanno all'inferno e tu dormi è ora che ci svegliamo dal solo quanti si vogliono svegliare stamattina alzatevi nella presenza del Signore preghiamo il Signore a l'inferno a a a a